Vuol dire che sono buoni politici? La dittatura... La dittatura... La dittatura... La dittatura... La dittatura vuol dire una persona. Anche Berlusconi è un dittatore. Quanti anni ha il potere? Un presidente o un primo ministro non può avere più di 8 anni... Esatto! E noi a Berlusconi l'abbiamo per tutta la vita! Come si! Quanto tempo... La dittatura è una dittatura... E' una dittatura! E' una dittatura! E' una dittatura! Aveva ragione! Se metto un sindaco a tele... Per stare Massimo... E' una dittatura... Capitalista! Ma tu a dire... A questo papà lo per cui c'è non detto papà! Per Berlusconi è l'urto! No! Ma non è che lui! Prova a dirlo in spagnolo! No! Ma lui... Ma per la persona è lei! Non lo può dire! Perché chi dice queste parole? Lei perché ci prende anche il forbo! Ma lui non può dire che è questo forbo! Capisce? Per la sua sinistra! Ma chi più è questo forbo? Eh... Prova! Non era comunista, però! Prova! Andiamo a dire anche la cosa! Ma fa una domanda tu! Prendi una domanda! Chi non vorrei essere tolto di San Rusconi in questo tavolo? Ah... Chi non vorrei essere tolto? Tu! Eh... Io ho la spalla malata! Aspetta! Per la sua spingione la mano! 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 Meglio la mano! No! Tu! No! Non posso dire! Ma me è questo a sbagliare! Allora sbaglio di questo! C'è qualcuno che dice vuole qualcosa da sbagliare C'è qualcuno che dice L'espia dice un momento che non vuole La base cosa non sa non lo fare Ma che fa lo secondo lo sbaglia o non rete? Chiedo che lo sbaglia E quanti c'è preate? A così potete sparlare dopo E la mattina qualche cosa no? Finisce un bel Cazzo mangiare è meglio da dire È un posto migliore di tutto questo Al colo saraceno Al colo saraceno si mangia bene e si paga poco Ma insomma Ma insomma Che poi dice che vuole pizza Ah non è vero A scusa A scusa Che la vergogna si cava a dire Perchè sta mangiando a spese di noi Perchè si cava a dire oggi A scusa Ma insomma Sì Questa è buona L'alcolare In tanto mangiare Che ho fatto Mere da cocire. Cosse gratinata. Cosse gratinate o gratinate? Vidi che hanno letto cose un pochettino pesando. E' un pochettino pesando. Quella ha detto le cose? Si, si giudono. Per noi lo conosciamo, perché voi non ti conosce niente, no per fortuna voi. Si parla a cucinare? Si parla a marazzola ma trattano come un signore, Sì, 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 sì. E poi che so? Non so posto una della macomaggia. E' forse un complemento che ha un apparanzolino. Com'è stata questa cena, dottor Peppino? Ottima e abbondante. Tante. Qualità? Qualità prima. Di prima categoria. Di prima categoria abbiamo tutti. E' il merito di cui è? Dottor Peppino. Bravo Peppino. E' questo. Con la partecipazione di Dottore Cazere, 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 ecco parano tutti. Ecco parano tutti. Amici. No, andite poi, Dottore Cazere, poi pareremo noi, poi. Vero, Dottore Cazere? Sì, scusa inizio. Siccome la Cazza di Cazere non è stata attaccata, non è stata la bronchite, significa che la caziera sospetta paramenta. Come è stato poi Dottore Cazere? Con la Cazere? E la cazza di credito? Grazie a venticata a casa. Bravo Francesco.